Grazie per la visione! Tira lì, no, tutte e due, tirami forte, dai, 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 no, guarda che tiri il filo, stai attento, dai, attento, vai lì dove ci sono le foglie, tu, ok, dai, 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 Oh, eccoci. L'acqua, 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 l'acqua. Aspetta, gira di qua tu. Facciamo il giro di qua, così, che andiamo a salutare la Molly. Eccola qui. Oh, boom! Dai. Oh, che bella foglia che hai preso. Opie! Buongiorno. 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 Mamma, 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 mamma. Mamma, 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 mamma. Mamma, mamma, mamma. 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 Mamma.